buongiorno amici mi appresto a fare il mio ultimo giro fuori comune dato che da domani l'abruzzo diventerà zona arancione e questo non si potrà più fare sarò costretto a fare giri nel mio piccolo comune e niente più bene amici non resta che augurarci a vicenda che tutto questo passi al più presto e tornare alla vita normale che veramente non se ne può più ho deciso di andare ad ari ed approfitterò ad andare al mio barbiere che vive proprio lì dato che non sappiamo più tra quanto potremo riuscire una bella salitina però prima facciamo un giro in mezzo al paese di filetto precisamente filetto arte filetto che vecchie scuole una palestra Andorra Tail Lungs Questo è il bar Il Peperoncino del mio caro amico Nicolino D'Alessandro dove ho lavorato per circa un anno. Questa struttura vicino al bar Il Peperoncino tantissimi anni fa era gestita dai miei genitori. Era un ristorante dancing che si chiamava La Noce. La Cantina Sociale di Ari Buongiorno Filippo Buongiorno Lo sai perché sono venuto oggi, si? Si lo so, lo so. Domani si vede i comuni. Esatto. Diciamo a questi ragazzi da quanti anni vengono a te? Guarda, sarà sicuramente sulla trentina d'anni. Minimo. Minimo, esatto. Infatti ho iniziato a Firetto, lontano 1987. Francesco è già venito. Ecco, è a posto il malone. Taglio fatto, ora farò un breve tour di Ari e si torna a casa. Questo è il comune. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un caffettino ci vuole sempre. Grazie. 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 Grazie a tutti. Il nostro caro campetto di calcetto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Aspettando tempi migliori. A presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.